si aprono le gabbie partite le cavalle del saccaroa un po' lenta in partenza de ara buona invece la partenza di tutte le altre la più veloce è miss conci ma subito fullness of life va a cercare la leadership per gestire i parziali in avanti allora miss conci anche se malvolentieri alla fine s'adegua pur tirando un pochino in terza posizione troviamo l'altra bottiana che è quella che è rose and crown poi in quarta posizione troviamo le altre ma miss conci alla fine non vuole cedere ad una corsa molto tattica in slancio supera su a metà curva anche fullness of life poi in terza posizione c'è rose and crown in quarta bridge battlango a circa tre lunghezze dalla terza poi ancora lampo flex e a chiudere il gruppo la coppia formata da fa niente e de ara siamo già indirittura d'arrivo con miss conci che lancia la volata poi ancora fullness of life che la tallona da vicino rose and crown che adesso deve ricucire il gap bridge battlango che alle intersezioni delle piste cerca di muovere lampo flex poi de ara e ancora fa niente che sono nelle retrovie ma cercano di venire avanti perché miss conci nel frattempo ha speso tantissimo fullness of life si fa avanti minacciosa rose and crown che cerca di muovere dal centro della pista non vengono avanti de ara si fa minacciosa lungo lo steccato ma è ancora lontano e allora fullness of life adesso deve dire se fa la distanza in vantaggio nei confronti di rose and crown e bridge battlango fullness of life che adesso deve gestire questo vantaggio rispetto alla compagna rose and crown si mette sulle gambe fullness of life è un po ferma ma è ancora in vantaggio rose and crown che appariglia fullness of life e la che dunque batte la compagna di training fullness of life stiamo rivedendo le battute finali 7 al primo posto carlo fiocchi in sella il training è quello di al duino botti i colori sono quelli della di oscuri al secondo posto fullness of life al terzo bridge battlango numericamente dunque l'ordine d'arrivo è 7 4 1 la quota della vincitrice era di 6,30 rose and crown era reduce da un sesto posto incondizionato a pisa ma aveva vinto al debutto a milano e dunque è tornato ad offrire un rendimento pari a quello del debutto se non addirittura superiore 7 4 1 è l'ordine d'arrivo grazie a tutti 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 grazie a tutti